Impact Investing è una collaborazione tra investitori, investitrici e investees, fondatori, imprenditori e imprenditrici. Parliamo quindi di investimenti diretti, investimenti diretti nelle aziende. E lo facciamo, abbiamo voluto, noi siamo Impact Hub, parliamo di impatto e appunto aggiungiamo questo livello, questo livello dell'impatto, anche se poi i punti che toccheremo oggi interessano tutte le persone che sono coinvolte nel mondo dell'imprenditoria e degli investimenti. Perché alla fine è sempre un tema di allineamento, di allineamento dei valori, di allineamento degli obiettivi, non soltanto di impatto ma anche finanziari, le aspettative, aspettative di tempo. E appunto, prima di introdurvi, volevo sottolineare ancora cosa vuol dire Impact Investing. Impact Investing è una definizione di Impact Investing, è appunto questo atto di effettuare intenzionalmente degli investimenti che aiutano le aziende a ottenere dei benefici sociali e ambientali misurabili, generando allo stesso tempo anche un rendimento finanziario. Quindi c'è da una parte l'intenzionalità di voler avere un impatto e dall'altra l'aspettativa di un ritorno finanziario. E spesso chi fa Impact Investing vuole dare il proprio contributo a qualcosa di più grande. Ma investire non è una cosa facile e non basta forse soltanto avere dei soldi per farlo. E ne parliamo appunto oggi con Luciano Balbo, presidente e fondatore di Oltre Venture e con Paolo Badano, fondatore e amministratore delegato di Jenny Factory S.A. Allora, iniziamo da te, Luciano. Che cosa vuol dire essere un Impact Investor? Tu sei il primo che in Italia, e oserei dire forse anche in Europa, ha parlato e praticato l'Impact Investing, hai più di vent'anni di esperienza nel private equity e i numeri di Oltre Venture sono molto interessanti, più di 120 milioni investiti attraverso tre fondi, 45 start-up sostenute, 6 exit di successo. I vostri investimenti sono sempre stati caratterizzati da un forte impatto sociale e ambientale e avete anche avuto l'importante ruolo di avvicinare tante persone a un modello, modo diverso di fare finanza, che mette appunto almeno allo stesso livello l'impatto e il ritorno finanziario. Ecco, cosa vuol dire essere un bravo investitore? E com'è cambiata questa definizione negli anni? E se puoi anche un po' dire qual è per te la differenza tra investor e impact investor? Grazie. Effettivamente l'impact investing è da vent'anni un concetto che gira nel mercato, anche se solo da due o tre anni ha avuto una grande risonanza. All'inizio è partito come qualcosa a metà tra la filantropia e gli investimenti tradizionali, con l'obiettivo, riconoscendo una cosa importante, che esistono dei bisogni sociali soprattutto, ma anche ambientali, che devono essere affrontati, non possono essere affrontati con la filantropia, perché la filantropia può occuparsi di bisogni estremi, estrema povertà e tutto, e il mercato tende a tralasciarlo. Faccio un esempio, housing sociale, no? Non è che possiamo regalarla a casa a tutti, però nelle grandi città le case costano molto e tutto, quindi costruire e avere dei rendimenti più moderati per rendere le case e magari gli affitti più accessibili. Quindi è partito come qualcosa a metà, quindi anche accettando dei ritorni finanziari inferiori ai valori di mercato. Man mano che il concetto si è affermato, perché è un concetto forte, investire, dare un po' di ritorno e dare un impatto, è un concetto forte commercialmente e anche di sostanza, e quindi anche investitori istituzionali grandi, non solo privati, si sono avvicinati, il concetto da un lato è esploso e dall'altro si è un po' diluito, nel senso che gli investitori istituzionali tendono a volere ritorni di mercato, a non concedere. Quindi questi si possono ottenere spesso nel lato ambientale, nel lato sociale è molto più difficile. Quindi è un concetto che si sta ampliando, ciascuno si può posizionare poi in modo diverso, rispetto a dare ritorni elevati, e quindi avere un campo d'azione più ristretto, o essere più, come dicono gli anglosassoni, concessionari sul ritorno e ampliare la gamma. Questa è un po' la storia, io ho fatto per tanti anni private equity, e quindi quando ho cominciato a farlo ho detto voglio tentare di mettere le mie competenze al servizio di qualcosa che abbia anche un impatto. Questo così, velocissimamente una carrellata su quello che era stata la breve storia dell'impact investing. Grazie, grazie Luciano. Torneremo su questo tema delle competenze tra pochissimo. Paolo, veniamo a te. Parliamo di start-up ad impatto, che sono quelle start-up appunto il cui scopo è quello di contribuire, di proporre soluzioni a problemi sociali e ambientali. E quindi sono start-up che hanno sempre una missione intrinseca all'interno del proprio lavoro, e quindi è importante rimanere allineati a questi valori senza dall'altra parte rinunciare al ritorno economico. e la tua è una storia di successo, una storia di passione, di intraprendenza, di positività, di generosità, sicuramente anche di visione. Jenny nasce da una tua necessità personale e si trasforma in un'innovazione che sta rivoluzionando un po' il modo di intendere la mobilità per le persone costrette in una sedia a rotelle. E non solo Jenny risolve il problema, risolve un problema, ma lo fa anche mettendo al centro l'eleganza, il design, perché come si legge sul vostro sito, la bellezza e la magia ha un ruolo fondamentale nella complicata strada verso l'integrazione della disabilità. Trovo questa frase molto bella. Ecco, tu ti definisci un imprenditore ad impatto? Qual è la tua storia? Impatto è una parola grossa, è difficile anche capire cos'è un imprenditore ad impatto, perché può essere un impatto anche negativo. Non lo so, questo non lo so, sono un imprenditore che cerca, come tutti gli imprenditori, e di portare a realizzare l'oggetto, in questo caso dalla mia idea o invenzione. Poi, che abbia un impatto positivo sulle altre persone, questo fa piacere. Quindi penso che sia quello. Non so ben cosa vuol dire un'impresa d'impatto. Chi costruisce bombe a mano, anche loro hanno un impatto. È anche esplosivo. Quindi magari fanno più fatturato di molti altri. Parliamo di impatto positivo. In questo periodo vanno anche di moda, quindi non so cosa vuol dire imprenditore d'impatto. Vuoi raccontarci un po' la tua storia? Sì, tu hai detto 5 minuti. Lasciando l'impatto, magari poi ti scopri. 5 minuti è impossibile. Però parte da una mia necessità. 26 anni fa un incidente in moto mi ha portato via l'uso delle gambe. E poi, dopo 10 anni, ho cercato qualcosa per migliorare la mia mobilità. Ecco, detto così, è molto semplice. Poi è una cosa nata dal garage, che magari se fossi dall'altra parte del mondo piacerebbe un sacco, mentre da questa parte del mondo interessa poco o niente. E nel garage è nata un'idea per cercare di migliorare la mia mobilità. Ho preso una roba americana, un Segway, con 180 brevetti al mondo. Penso che una cosa più complicata di quella non c'era ai tempi. Ne ho fatto una sedia a rotelle. Dovete considerare che la sedia a rotelle nel mondo era, fino al nostro arrivo, era considerata a 3, a 4, a 6, a 12 ruote, a cingolo, ma non a 2. E quindi mi sono creato anche tutti i problemi annessi e connessi di portare nel mondo un'innovazione che non c'era prima. Con la cosa di dire, ma se non l'ha fatto nessuno prima, ci sarà stato un motivo, no? E quindi con tutte le complicazioni del caso, e via discorrendo. La storia è troppo lunga per raccontarla in 5 minuti, perché vengo poi, come spesso accade, vengo licenziato dalla mia azienda, l'azienda fallisce, riparto. Cioè, una storia che appena riesco a stabilizzare, scriverò un libro, perché è abbastanza interessante come viaggio. Che mi ha portato poi qua, adesso, a parlare di questa esperienza. E quindi, quando mi hai proposto di parlare di fondi, e magari di raccontare che impatto ha avuto la ricerca, perché poi noi imprenditori facciamo una cosa, oltre al lavoro che facciamo, e cercare soldi. Continuo. Cioè, il mio lavoro, da quando ho avuto idea, il mio problema è sempre stato quello dove prendo i soldi. Che poi, io mi ricordo, quando andavo da mio padre, che avevo sempre delle idee, perché ero un bambino che ha sempre avuto idea, andavo da mio padre e gli dicevo, ho un'idea meravigliosa. E lui mi diceva, i soldi dove li prendi? E gli dicevo, non lo so. Ecco, prima trova i soldi e poi fai l'idea. E questo era un po' il concetto. E quindi, sto ancora cercando i soldi. Grazie. Grazie Paolo. Beh, allora, passiamo subito. Abbiamo preparato quattro statement, anche magari un pochino forti, che fanno un po' da base per la nostra conversazione. E il primo, appunto, è ho bisogno di soldi per crescere. E, beh, come hai appena detto tu, siete attivi da diversi anni e la ricerca di fondi è una parte fondamentale per qualsiasi imprenditore, imprenditrice. e spesso il problema, però, è avere accesso a un capitale che sia consapevole, un capitale che sia paziente, che non vuole prioritizzare a tutti i costi il ritorno economico a discapito del motivo, della missione e quindi dell'impatto dell'azienda. Ed è spesso anche, appunto, nella ricerca di capitali che i progetti falliscono perché si portano a casa magari investitori, investitrici che non sono pienamente allineati ai valori dell'azienda. e quindi vogliamo un po' chiederti come è la tua storia, come hai fatto il fundraising per Jenny, come lo continui a fare, se avresti fatto qualcosa di diverso, un po' come hai scelto le persone che fanno parte della tua azienda e cosa consiglieresti all'imprenditrice e agli imprenditori che sono nella stanza? Una domanda veramente importante questa. Beh, io ho fatto dei grossi errori, devo dire, di inesperienza soprattutto, no? E ho capito subito che mi servivano soldi e molti soldi. Bisogna sempre, secondo me, un imprenditore quando ha un'idea o quando sta sviluppando qualcosa, vedevamo prima, no? Le start-up, è bene avere chiaro qual è il mercato e quanti soldi servono perché a volte hai un'idea meravigliosa ma i soldi non sono sufficienti. Voi dovete considerare, per esempio, nel mio caso, la base autobilanciante segue nel torno agli anni 2000, fine anni 99-2000, era costata 100 milioni di dollari svilupparla. Quindi, quando io poi andavo a dire in giro la rifaccio, se loro hanno speso 100 milioni di dollari non era proprio così immediato, no? Portare un'innovazione come ho fatto io nel mondo e dire, vabbè, il business plan viene facilissimo perché 100 milioni di persone sedute in sede rotelle nel mondo, io prendo lo 0,0 qualcosa, i business plan diventano incredibili, ma poi bisogna arrivarci al mercato, bisogna fare il prodotto. E poi noi imprenditori, io soprattutto credo di aver fatto un errore grandissimo, io credo di essere un tecnico, un esperto del prodotto, io sono innamorato del prodotto e quindi credo di sapere tante cose che so e le so del prodotto. E mi sono fidato di quello che non sapevo di portarmi in casa a qualcuno che compensasse le mie mancanze. Ecco, se tornassi indietro, se devo dare un consiglio, è di dire che quello che uno ha come esperienza, cioè quello che sa, deve delegarlo, perché tiene il controllo. Se lo sai, riesci a controllare quello a cui tu hai delegato, quello che sai. E le competenze te le devi creare, tipo in finanza, io non sapevo nulla di brevetti, ho dovuto fare 10 brevetti nuovi, ho dovuto studiare i brevetti. Quando non sapevo il controllo dell'azienda, l'ho lasciato a quelli che pensavo erano competenti in quello, ma perdendo io il controllo e occupandomi solo di un pezzo dell'azienda, ho perso poi l'azienda. Quindi questo è il primo fattore. Chi si porta in casa, perché qui si tratta di chi ti porti in casa, è fondamentale. Chi scegliere per fare un viaggio è fondamentale. E anche lì ho fatto degli errori. anche perché non vorrei fare delle polemiche, ma io sui fondi ho moltissimi dubbi, quindi non vorrei entrare come moderatore. E poi qui abbiamo uno che giustamente il dottore porta a fondi. Io sono assolutamente molto scettico su alcuni tipi di fondi, sulla differenza di visione anche che si ha. Bisogna capire bene se due si sposano, se tutte e due hanno lo stesso obiettivo. A volte non è proprio così. Uno va a destra, uno va a sinistra e si comincia a litigare dal giorno due dopo che hanno messo i soldi. Anche perché chi mette i soldi in linea di massima sono quelli che dicono vabbè, io comando, io metto i soldi, io comando. E come sei riuscito adesso ad essere... È finita in tribunale a... No, no, noi parliamo di adesso, di oggi. Oggi molto meglio, perché quando si fanno gli errori... Cos'hai imparato? Hai imparato tante cose. No, tante cose. Quindi nella scelta di chi... Ovvio, se uno ha i soldi, è presto fatto. Io all'inizio ho dovuto ipotecare casa. Quando uno dice l'imprenditore ci credono? Eh beh, ci credono sì. Certo che se dal giorno zero che fai qualcosa, di tuo non c'è niente dentro, eh beh, il credere è una cosa un po' particolare. Io ci credevo talmente tanto che ci ho messo casa mia dentro. Quindi, no? Ci si crede. E quindi bisogna essere bravi a cercare i fondi, chiaramente, ma con le persone giuste. Quindi capire che cosa ti serve per sviluppare, portarti in casa qualcuno, non tanto il denaro, perché il denaro, certamente l'abbiamo detto prima, serve, no? Ma servono anche le competenze, portarti qualcuno che porta soldi e aiuta ad accelerare la tua impresa. E questo è quello che ho fatto e credo che i risultati si vedano adesso. Oggi abbiamo una base autobilanciante, non abbiamo speso 100 milioni di dollari, ma abbiamo speso i svariati milioni di dollari e ci siamo riusciti però a farlo, no? Perché? Perché i miei soci credono, e la parola credere di nuovo è una cosa, no? Più che sperare. Cioè un fondo spera che tu fai avanti e fai soldi. Un socio vero crede insieme a te e ti aiuta a svilupparti. Non voglio manipolizzare. No, siamo perfetti. Quindi grazie, è molto interessante. Sicuramente appunto è il tempo che richiede, cioè il fundraising da una parte richiede, è un lavoro a tempo pieno, perché richiede andare in giro a cercare le persone, ma poi quando le trovi, aspetta un attimo, prima le devi conoscere. C'è un investimento di tempo, è come sposarsi. Assolutamente. Infatti scherzando, prima dicevo che se dovessi dare dei consigli a un nuovo imprenditore, la prima cosa che gli direi è fare un bel corso di teatro. Secondo me questa è la prima cosa che direi, perché come la racconti ho capito che è diverso rispetto, io da volte diciamo ma questo come ha fatto a prendere, c'è un affare che non sta in piedi, come ha fatto a prendere, la racconta bene, il vestito conta ancora. Quindi un bel corso di teatro. L'altro è stare lontano dai Bocconiani. Questa è la mia esperienza. Sto parlando della mia esperienza. Se devo dare un consiglio, mi hai detto. Questo che sia. Grazie, grazie. Luciano, come manager di uno dei fondi ad impatto più importanti d'Italia, immagino che riceverete decine di proposte ogni settimana o se non ogni giorno. Come scegliete i progetti in cui investire? Questa frase che abbiamo voluto mettere è un po' provocatoria, perché dice appunto avere il giusto business model è molto importante, il team poi segue. Cosa valutate? Cosa è più importante? Il business model o il team? Anche legandoti un po' magari a quello che diceva Paolo prima. Sono due fasi. Certamente all'inizio si valuta il business model, cioè ogni fondo poi ha delle sue strategie. Noi investiamo quasi solo nel mondo dei servizi, abbiamo fatto cose nella sanità, nell'housing, nell'education, quindi questa è la nostra area. Quindi conosciamo quei settori e quindi cerchiamo di capire se quel business model genera impatto. Torno su un tema che tu dicevi. La parola impatto, lui ha ragione, è significativa e vaga. insieme, no? Per noi impatto vuol dire finanziare dei modelli che sono migliori di quelli esistenti. Io credo al tema relativo perché l'impatto in assoluto non esiste un'unità di misura come si misurano i metri quadrati. Quindi che siano più accessibili, meno cari o più efficaci. Questo è la nostra... Quindi certamente all'inizio c'è una selezione sul modello di business, però poi la selezione finale è fatta sul team. Cioè fare degli investimenti ed impatto non è molto diverso che fare investimenti dal punto di vista poi del rapporto degli investimenti tradizionali. Io ho fatto private equity per 25 anni quindi il team e questo lo dico anche la consonanza tra team e fondo ha ragione lui cioè ci vuole consonanza è l'elemento essenziale. Cioè è chiaro che uno deve credere nel modello ma le molte volte che abbiamo le volte che abbiamo sbagliato talvolta non era il modello sbagliato ma era il team sbagliato comunque il team e noi non eravamo allineati quindi le persone sono un elemento essenziale per il successo dell'azienda in sé non solo del nostro investimento perché poi noi investiamo ma alla fine il nostro successo se esiste è un successo dell'azienda. Quindi da una parte la persona che fa parte del team ma poi anche il team le persone o la persona poi quindi le sue competenze perché poi non ci si inventa e la comprensione che la persona ha delle competenze che gli mancano cioè quindi della perché poi a noi tutti mancano delle competenze non è un peccato il fatto di non sapere delle cose è un errore non comprendere che certe cose non si sanno perché questo è l'elemento e quindi la comprensione di che cosa serve per portare quell'azienda al successo questa è la cosa importante e su questo prima Paolo diceva cosa ne pensi di questa idea invece di cercare le competenze che non hai fuori ma di io allora io penso che un'azienda deve vivere di un suo team l'investitore può aiutare molto noi lo facciamo ma non può essere sostitutivo quindi ci vuole la capacità che l'imprenditore il gruppo di persone abbia la capacità di costruire un'azienda che ha tutte le competenze e questo è noi tentiamo di aiutare ma ci vuole la consapevolezza dell'imprenditore di questa parte perché se no infatti spesso lo scontro che abbiamo avuto è quando l'imprenditore poi non voglio difendere i fondi però quando l'imprenditore non ha la comprensione di che cosa manca per raggiungere il risultato lo fa genuinamente non c'è cattiveria però quando manca quello poi dopo alla fine prima ci si scontra secondo l'azienda manca quel tassello lì e le aziende non vanno avanti grazie grazie Luciano passiamo al prossimo essere il cambiamento che vuoi che succeda nel mondo questo è uno stimolo per entrambi iniziamo da te Luciano è una frase di Gandhi e appunto dice essere ogni giorno al servizio al servizio dei propri valori che è una cosa bella da dire ma non è sempre facile da fare nella pratica soprattutto in finanza dove ci hanno insegnato abbiamo sentito da tantissimi anni sentiamo che prima di tutto vengono i soldi e poi magari eventualmente però meglio se li tieni fuori i tuoi valori perché alla fine possono fare danni l'idea vecchia della finanza e l'impact investing cambia questo paradigma e appunto introduce l'impatto e dimostra anche che effettivamente si può avere un ritorno economico interessante tenendo conto anche l'impatto come Luciano come riesci tu nel tuo approccio agli investimenti a integrare i tuoi valori personali e pensi che ci sia un limite a questa integrazione e penso soprattutto al momento dell'exit che è un momento molto delicato quando magari un investitore o un investitrice che ha a cuore i valori e esposa la missione dell'azienda se ne va lascia al posto a qualcun altro spesso un fondo che invece per sua natura perché deve massimizzare i ritorni degli investitori trascura un pochino l'impatto quindi qual è la tua questa integrazione di cui tu parli è più o meno possibile torno sul tema che ho detto all'inizio in funzione di come il fondo o l'investitore si posiziona cioè qual è la tipologia di ritorno che ha faccio degli esempi ci sono nel mondo ambientale moltissime possibilità per il miglioramento dell'ambiente moltissime possibilità di fare degli investimenti che combinino un grandissimo impatto e un altissimo ritorno perché oggi se uno riuscisse pensate solo all'investimento nelle batterie nello storage dell'energia si possono ottenere dei risultati importantissimi più difficile è nel mondo del sociale perché il mondo del sociale tende a offrire dei ritorni inferiori è più difficile è un mondo più strutturato ci si posiziona spesso a metà tra il settore pubblico e il settore privato quindi il tema vero se io guardo anche la mia storia è che noi abbiamo fatto nell'inizio della parte iniziale i primi 6-7 anni avendo degli investitori privati delle cose che io ritengo e anche hanno un grande impatto sociale poi è chiaro che allargando il fondo e dovendo offrire più ritorno agli investitori stiamo facendo sempre delle cose d'impatto ma tagliamo via certe cose che non è più possibile fare faccio un esempio abbiamo fatto una società in Italia che fa microcredito che sopravvive sta andando bene ma che certamente non può permettere un grande ritorno quindi l'integrazione è più o meno possibile in relazione a come ci si posiziona all'interno dell'obiettivo di ritorno finanziario e questo è un po' la scommessa il tema la forza e la debolezza dell'impact investing e della sua modo di operare che va letto in funzione poi dei singoli posizionamenti io sull'exit non sono così preoccupato secondo me tutte le volte che noi siamo riusciti a fare delle aziende di successo quando le poi vendi siccome il successo si basa su quel modello non ha senso cambiarlo cioè è chiaro che se poi quindi è il successo dell'azienda che ne genera come dire la sua capacità di perpetuarsi nel tempo è noti un cambiamento di consapevolezza all'interno dell'azienda nei team cioè di voler fare azienda per avere un impatto certamente il tema è sempre più presente anche qui dipende come viene interpretato cioè proprio perché l'impatto non ha un metro di misura unico quello che non è una misurazione scientifica una distanza una superficie e tutto può essere interpretato in modo più stringente più visibile o in modo un po' più lasco e non do un giudizio negativo perché in fondo il fatto che oggi tutti vogliamo cioè il mondo voglia misurare di più l'impatto delle cose che si fanno positive e negative è un dato positivo però è come una una serie di circonferenze ci sono delle circonferenze più strette più piccole dove si può creare tanto impatto ma bisogna fare più sacrificio sul ritorno finanziario più si allarga secondo me magari diciamo si può fare di più però il livello di impatto tende un po' a scendere quindi serve una visione realistica e quindi ciascuno deve un po' posizionarsi dove riesce a farlo come vuole e così via grazie e per te Paolo cosa vuol dire essere il cambiamento che vorresti vedere succedere nel mondo bella la frase mi piace tantissimo Gandhi però gli hanno sparato bisogna sempre ricordarti per dire che le idee a volte ci vuole coraggio le paghi care tra l'altro io non lo so cioè come imprenditore forse oggi si carica un po' troppo anche un imprenditore di tutti questi valori che credo di non avere cioè io credo di essere uno ossessionato da quello che vuol fare come tanti imprenditori che si alza la mattina dorme la sera pensando sempre al progetto non a come avrà un impatto nel mondo cioè mi sembra un po' troppo questa per me per quello che mi riguarda io sono più che altro ossessionato nel riuscire a realizzare quello che voglio anche quando si parla di ritorno economico io nasco come imprenditore intanto nasco come muratore e quindi le competenze mi mancano tutte praticamente rispetto a quella che dicevamo prima e trovo corretto quello che si è detto prima che bisogna affidarsi anche agli altri io dicevo il controllo dell'azienda quando tu hai un'idea e vuoi portare la tua barca nel porto che vuoi tu se tu non tieni il timone lo fai tenere a qualcun altro farai delle strambate enormi prima di arrivare questo nel mio caso io dicevo ma guardate che è là il porto perché stiamo andando di là e questo era quello che mi faceva più arrabbiare di tutto rispetto a sapere dove andare ma non riuscirci a arrivare perché gli altri dicono no guarda è di qua che dobbiamo andare io credo di essere un grande egoista da quel lato lì perché io ho venduto più di duemila macchine in giro per il mondo e ho lettere incredibili di gente che gli ha cambiato la vita però io sono ossessionato dalla prossima Jenny quella che sta facendo non sono tanto così preso a dire che questo mezzo cambierà il mondo non lo so se lo cambierà la mia vita l'ha cambiata e quella di alcuni la sta cambiando però credo sempre che il prossimo prodotto è quello migliore ed è quello che riuscirò ad realizzare quello che vogliono e anche a livello di soldi di revenue di tutto quello che si parla oggi anche lì l'imprenditore non sono convinto che abbia ben chiaro io come imprenditore amo i soldi non ho paura di dirlo se no facevo tutt'altro lavoro ma prima devo fare l'oggetto per cui ho sognato e penso di venderne non so io dieci anni fa dicevo si possono vendere 50.000 Jenny mi guardavano come dire questo è completamente fuori di testa dopo dieci anni mi stanno dicendo si possono vendere 50.000 macchine il problema è che non è cambiato nulla tra dieci dieci anni fa adesso il mercato era lo stesso è cambiato la percezione di quelli che dicono adesso ora si può fare ma in realtà si poteva già fare allora ci voleva solo più coraggio ricordo sempre il mio corregionale si dice Cristoforo Colombo lui ci ha messo dieci anni noi sappiamo tutti la storia quando è arrivato la data che è arrivata io un po' lui l'ho studiato ci si dimentica i dieci anni che ci ha messo prima in un periodo un po' diverso di adesso a girare l'Europa a cercare soldi per partire e per andare in cui la raccontava e tutti dicevano questo non prenderà mai lui era pronto dieci anni prima a partire e a fare quello che avrebbe fatto però ha dovuto acquisire competenze lui andava in giro a chiedere i mari cosa avevano trovato intervistava tutti perché più competenze aveva più l'effetto teatro quando andava davanti a qualcuno che aveva i soldi riusciva a convincerli per dire questo forse ci arriva dall'altra parte è quello che ho fatto io negli ultimi dieci anni però se devo guardare Paolo oggi e Paolo quando dieci anni fa cercava i soldi se è cambiato qualcosa nel mio modello di business no la rotta era già quella dieci anni fa ci ho messo solo più tempo perché ho strambato un po' troppe volte però la rotta era già tracciata e quindi torniamo lì un patto cambiare il mondo prima cominciamo a realizzare io dicevo sempre a un mio socio di un tempo perché si chiede quante geni hai venduto all'inizio nessuna ce ne avevo due ma dicevo scusate noi stiamo cercando i soldi per fare le geni se mi chiedi quante ne ho vendute è come dire un pizzaiolo che sa fare la pizza quante pizze hai venduto ma lui sta cercando i soldi per fare il forno quindi o decidiamoci prima facciamo il forno poi facciamo le pizze poi mi dici quante ne abbiamo vendute era un po' una logica che non capivo quindi impatto non ve lo so dire vi so raccontare quanto tempo ci vuole però per raccontarla raccontarla bene e poi le cose magari accadono ecco avere una visione e la perseveranza di mantenere questa visione è fondamentale assolutamente ma questa è un'altra caratteristica che deve avere un imprenditore che è l'ostinazione ostinazione ostinazione assolutamente ostinato nessuno ti fa cambiare idea è difficilissimo cambiare idea e vuoi portarla avanti e quindi vuoi dimostrare che la tua idea è quella giusta al discapito di tutti io tantissimi se avessi un euro per tutte le persone che mi hanno dato una pacca sulla spalla sarei miliardario per dire complimenti è bellissima però quando dici mi dai un euro per andare avanti no è troppo pericoloso troppo rischio troppo rischioso e passiamo all'ultima all'ultima slide gli investitori sanno tutto le start up devono imparare e tocca appunto proprio il rapporto tra chi investe e chi invece riceve i finanziamenti che abbiamo capito è un rapporto delicato e importante fondamentale le start up hanno un tasso di fallimento molto alto e le ragioni sono spesso trovate nel team nel modello di business perché spesso le start up sono capitanate da giovani imprenditrici giovani imprenditori spesso alle prime armi che hanno come si diceva prima bisogno di competenze ed è lì che entrano in gioco gli investitori gli investitrici con appunto tempo competenze soldi rete ma mettere queste competenze al servizio delle start up non sempre è facile e non è sempre evidente e spesso il ruolo di chi investe potrebbe essere anche negativo però molto raramente si sente parlare di questo la colpa è sempre del team è sempre del modello di business Paolo qual è l'insegnamento più importante che hai ricevuto da una persona che ha investito in Genny in questi anni e appunto che tipo tornando ancora alla prima domanda che tipo di competenze credi siano fondamentali da parte degli investitori che tipo di mentalità deve avere l'investitore per poter aiutare un'azienda a avere successo di nuovo una domanda molto complicata varia chiaramente da da azienda azienda no? io sono un'azienda prettamente industriale perché produco un mezzo e quindi è differente rispetto a un'azienda magari nel mondo in un mondo tecnologico ma senza una base hardware importante come ho io quindi le mie competenze che devo portare in casa sono enormi sono competenze enormi perché spaziano tutto quello che per fare una macchina ecco consideriamo l'automotive ecco tutte quelle competenze lì devono rientrare in un cubo di un metro cubo no? quindi veramente complicato si possono trovare perché ci sono io ho la fortuna anche lì una componente non banale nell'imprenditore avere la fortuna io nato a Patrasso non avrei fatto quello che ho potuto fare ho la fortuna di essere in Ticino il Ticino ha la fortuna di essere incuniato nella Lombardia che è il più grande penso comparto automotive in Europa e io ho trovato aziende con delle competenze incredibili che l'America l'aveva dovuto spendere dieci cento volte quello che ho speso io per riuscire a fare no? quello che che hanno fatto io l'ho rifatto però utilizzando delle competenze che c'erano già perché loro l'hanno messa a mia disposizione ecco quindi questo è no? trovare partner in questo caso industriali e anche lì se ci allacciamo ai fondi per me è fondamentale avere un fondo industriale che è quello che dà perché io posso farne un pezzo della strada e il pezzo è il prodotto lo posso fare nel modo migliore possibile poi c'è tutta la parte vendita rete assistenza in giro per il mondo è chiaro che se devo fare anche quel pezzo lì e ci rivediamo qua tra dieci anni no? perché ci vuole il tempo che oggi non c'è più ricordiamocelo oggi il tempo non c'è più per un imprenditore mi spiace dirlo ma oggi fare l'imprenditore non è come si faceva 50 anni fa io faccio un brevetto ci metto 18 mesi perché il brevetto venga selezionato e dicano ma io faccio una foto di un mio sistema di sgancio lo metto sui social entro alla fine della serata ha fatto il giro del mondo basta che uno dall'altra parte del mondo abbia le risorse per farlo più delle mie finisce che lui lo fa prima di me quindi la velocità con cui arrivi al mercato oggi non è mai stata così importante quindi avere un fondo industriale in questo momento che abbia una parte quindi la vendita la parte assistenza che metta nel circuito suo un prodotto beh si va immediatamente sul mercato con una velocità completamente diversa quindi sapere quello che si vuole nel proprio business è fondamentale grazie Luciano tra il pubblico abbiamo sicuramente tante persone che fanno già investimenti o altre che probabilmente vorrebbero iniziare quali credi sia il ruolo dell'investitore e dell'individuo che decide di investire in una start-up per diminuire il rischio di fallimento anche di una start-up che consigli daresti a chi vuole approcciarsi agli investimenti dico solo due parole perché oggi per come sta andando il mondo è di moda essere investitori però ci si dimentica che è un lavoro mi spiego non che fare gli investitori è più difficile che fare un'altra cosa però la gente pensa che per fare quell'altra cosa bisogna formarsi per fare l'investitore no anche per fare non sto dicendo che è più difficile fare il muratore o l'idraulico ma voi avete visto uno che si mette a fare l'idraulico dalla mattina alla sera senza aver imparato qualcosa ecco vale anche per l'investitore però oggi quindi in realtà l'investitore ha bisogno non è così difficile farlo però ha bisogno di alcune caratteristiche che sono secondo me innanzitutto qui cito un grande investitore americano quello che in atletica è il decatleta una persona deve essere poliedrica deve capire la relazione deve un po' capire di numeri deve capire di business ci vuole questa capacità perché se no è difficile essere un buon investitore se poi si investe in start up la cosa diventa ancora più delicata perché quando c'è un'azienda già formatata una storia è più facile o meno difficile diciamo quindi non ho un consiglio facile da dare anche perché anche perché non ci sono consigli facili però secondo me uno per investire deve capire come lo vuol fare unire le proprie forze ad altri magari secondo me negli start up bisogna sempre stare attenti che normalmente ci vogliono quasi sempre più soldi di quanti si pensa ricordatevelo 90 volte e quindi unire le forze essere più perché poi poi dall'altra parte gli imprenditori quando appunto fanno teatro vendono delle cose e lo posso anche capire che non ci sono del tutto quindi l'investitore deve avere anche l'occhio lungo non per non investire ma per comprendere come fare quindi è complicato ripeto come un altro lavoro però non bisogna inventarsi del tutto unire le forze più persone magari su un round per avere più forza per fare un secondo round quindi ripeto non c'è un manuale però un po' di prudenza e anche attenzione a capire fare un po' una curva di esperienza fare un caso due casi unendosi ad altri può essere un modo per imparare a fare l'investitore che è ripeto un lavoro come un altro ma ha bisogno delle sue competenze so di non dare una risposta fulmine chiaro però la risposta problematica che do deve risuonare in chi chi lo volesse fare per aprire diciamo uno spazio per imparare per comprendere per guardarsi in giro grazie Paolo volevi adesso dico una cosa che viene giù il tetto dico se volete fare gli investitori fatelo in prima linea è una cosa un po' parlando di fondi per me i fondi li vedo un po' come l'amministratore di condominio che tutti danno i soldi all'amministratore per fare i lavori ben fatti nel proprio condominio chi conosce un amministratore di condominio e ha mai visto i lavori fatti bene nel condominio scusate io sono disabile mi permetto di dire quello che voglio ho sempre questa percezione e alla fine dico quello che voglio se volete fare gli investitori dico scendete in campo guardate rischiate del vostro magari non è sempre così sto generalizzando è chiaro però sento troppe storie che dice ho investito lì ma tu l'hai seguito hai visto cosa anche perché ho sentito prima quante start up falliscono prima di arrivare non è una su mille di più però basta guardarle alcune sono fatte apposta per fallire sono scritte per fallire prendono i soldi perché dicono vabbè io sono l'amministratore lui è l'altro ce li dividiamo noi tra tre anni falliamo ma per tre anni abbiamo mangiato ma c'è scritto proprio ne facciamo un altro sono un cretino può investire lì quindi bisognerebbe fare molta più pulizia andare molto più ma questo vuol dire anche giustamente l'investitore deve scendere in campo avere delle competenze capire su cosa sta investendo farsi una valutazione propria no? di quello questo è quello che penso io no no assolutamente ed è anche quello che con Impact Club siamo un po' arrivati a capire anche durante questo anno di lavoro insieme difatti adesso l'anno prossimo partirà un corso un percorso formativo proprio per angel investor per persone che vogliono fare investimenti perché è fondamentale la competenza la competenza al servizio del progetto e appunto è anche per evitare i rischi era un fondo era un fondo quindi niente il tempo è scaduto vi ringrazio per le vostre spero che che abbiate avuto delle interessanti stimoli volevo ringraziare anche anche Fondazione Agire per l'organizzazione e in particolare Christian Vitta e Stefano Rizzi per aver voluto e desiderato e creato questo spazio importante di dialogo e di ascolto di cui abbiamo tutti grande bisogno grazie ho dimenticato l'ultima slide grazie mille Carlotta per aver moderato brillantemente questo momento e gli ospiti è quasi un momento così anche divertente ma è un modo è uno stile abbiamo conosciuto in questi mesi in questi anni Paolo Badano anche in altre occasioni ed è stata anche questa una bella occasione per affrontare dei temi importanti anche con un piglio anche simpatico ehm Ehm...